Ciao amici di Associazione Culturale Maggiolina, in questo video cominciamo a fare sul serio, nel senso che devo fare una cosa per cui è ora che noi si mettano a posto varie cosine e si cominci a fare anche cose un po' più difficili. Allora innanzitutto rendiamoci conto di una cosa, sei arrivato fino a questo punto, hai seguito il corso fino a questo punto, hai visto tutti i video, altrimenti torna indietro, non sei più un principiante, sei una persona che si rende conto di come funziona il computer, sai che si possono fare dei pasticci, non sai fare ancora tante cose, ma sai che se ti metti lì con attenzione, leggi bene, le cose le puoi fare, quindi è solo una questione di tempo, di fare qualche tentativo, di ragionarci un po' sopra, ma adesso tu puoi fare tutto quello che vuoi. Certo ci sono ancora delle cose che ti devo spiegare ed eccoci qui proprio per questo. Allora ti do l'obiettivo finale, perché facciamo questa cosa? Io voglio provare Google One, mi hai sentito parlarne nei video precedenti, la nuvola a pagamento più ampia, ma soprattutto la VPN, la navigazione sicura, protetta, eccetera, offerta da Google One e da Google appunto. E poi voglio provare le modifiche alle foto con più funzionalità offerte sempre da Google One. Per fare questo mi devo abbonare, quindi devo spendere dei soldi, pochi per fortuna, però devo far sì che il mio account, in questo caso quello da esperimento, perché comunque per me questo è un esperimento per fare i video insieme a te e per imparare a usare questa cosa insieme a te, devo fornire un metodo di pagamento al mio account da esperimento, deve poter spendere dei soldi e nel momento in cui il mio account può spendere dei soldi è importante che sia sicuro, il più sicuro possibile. Questo sempre, non solo perché devo spendere dei soldi, l'account Google, che è quello che poi abbiamo nel telefonino, che è quello su cui abbiamo tutte le foto, che è quello su cui abbiamo i nostri documenti, che è quello insomma che usiamo sempre con Google, deve essere sicuro. Io a questo punto devo mettere in sicurezza il mio account Google da esperimento e quindi ti faccio vedere come si fa, lo faccio insieme a te, vediamo se ci sono delle novità eccetera, perché così tu possa ragionarci e dirti sì anch'io faccio sì che il mio account sia in sicurezza. Nello specifico attiviamo quella che si chiama la verifica in due passaggi, vuol dire che noi avremo una sicurezza in più. Se qualcuno vuole accedere al nostro account deve mettere il nome utente, deve mettere la password e quella la deve sapere o deve azzeccarla a forza di tentativi, non lo so, quindi attualmente noi con nome utente e password siamo sicuri. Ma ammetti mai che qualcuno indovini la tua password o in qualche modo la trovi, serve un'ulteriore verifica. Ecco perché la verifica in due passaggi. La prima è la password del tuo account. Il tuo account è pubblico, è l'indirizzo email, quindi le persone lo sanno, però serve la password per accedere. Questa è la prima verifica. se uno sa il tuo account e la tua password accede. Ma a questo punto Google dirà, no calma, Daniele, Mario, eccetera, mi ha detto di chiedere un'ulteriore verifica. L'ulteriore verifica viene fatta con un dispositivo di tua mano, quindi un numero di telefono, un cellulare, un qualcosa, una chiavetta speciale a mezzo che tu voglia comprarla, eccetera, e quindi anche chi prova ad entrare e bypassa la tua password non può andare avanti se non ha fisicamente, materialmente in mano l'oggetto che tu hai scelto come oggetto di seconda verifica e spesso è il cellulare. Quindi adesso io vado a fare questa cosa per rendere sicuro il mio account. Falla una volta che tu hai compreso bene il meccanismo e una volta che tu ti senti in grado di farla. Quindi se sei ancora un po' titubante guarda il video due o tre volte, pensaci per bel tempo, puoi farla anche il mese prossimo, eccetera, però è importante che tutti gli account che offrono questo servizio, la verifica, in due passaggi siano resi verifica in due passaggi. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, tutti questi account che per noi sono anche un po' inutili, sono inutili fin tanto che non te li ha presi qualcun altro. Quindi loro offrono la verifica in due passaggi e quindi la facciamo perché è importante, anche se adesso magari non ti sembra. Quindi partiamo a fare questa cosa. Apro il mio account Google, apro il mio browser Google, è più giusto dire, sono su Google, sono già logato con il mio account, eccolo qua, questo è il mio account e sono già logato. Google mi riconosce e sono già pronto perché in passato ho già messo la password, eccetera, come fai anche tu del resto. Adesso entro nella gestione dell'account e ne aumentiamo la sicurezza. Quindi premo qui sul logo, nel mio caso è una D, potrebbe essere una foto o comunque un iniziale di solito del tuo nome, una lettera dell'alfabeto, e vado su gestisci il tuo account. Quindi premo qui sopra. Arrivo nell'area riservata a me, di questo account, dove posso fare tutto quello che concerne la gestione dell'account, compreso gestire i pagamenti, gli abbonamenti, altre cose che dovremmo andare a fare, ma oggi ci occupiamo della sicurezza. Premo qui sopra perché io voglio andare ad aumentare la sicurezza del mio account. Il tuo account è protetto, tutto posto, non ci sono cose strane che dovrebbero preoccuparmi. Bello verde, a posto. Quello che interessa fare a noi adesso è attivare la verifica in due passaggi. Qui sotto troverai delle informazioni. Il numero di telefono di recupero. Io qui adesso c'è il numero di telefono, è mascherato per te, ma io lo vedo. È un numero di telefono, il tuo telefono, del tuo cellulare, quello che hai in mano tu, che serve a recuperare la password e quindi a riaccedere e riavere il possesso del tuo account in caso di problemi. Mi sono dimenticato la password. Come faccio a entrare? Ti aiutano tramite quel telefono lì. Quindi se lì è bianco e non c'è, devi provvedere a mettere il numero di telefono. Tranquillo, non ti chiamano, non succede niente, non ti spammano niente. Di fatto però dici in caso di necessità voglio essere contattato lì. In alternativa o anche, io in questo caso è anche per me, quindi ho fatto anche questa cosa, metti anche un indirizzo email, diverso da quello attuale, diverso da quello di questo account, perché se tu non riesci ad accedere, dici ragazzi sono io con questo account qui, non riesco ad accedere, scrivetemi all'email di recupero, quindi a quell'indirizzo che io ti ho fornito in caso di necessità. Così, o via telefono o via email, tu puoi riappropriarti del tuo account, puoi mettere una password nuova, puoi insomma tornare in possesso del tuo account. Queste due voci sono indispensabili, vanno inserite e di solito si inseriscono all'inizio quando si crea l'account. Se non l'hai fatto devi premere qui e farlo. Ora io non posso mostrarti come fare, perché per me è già a posto, ma ce la puoi fare. È semplice, ripeto, non sei più un principiante, sei una persona che sa quello che fa e magari non sa tutto del computer, ma ce la puoi fare. Quello che facciamo noi adesso è usare la verifica in due passaggi, nel senso che la verifica in due passaggi è disattivata, quindi questa sicurezza non c'è, perché così io entro più speditamente, senza farmi tanti problemi. Però ora è necessario che il mio account diventi più sicuro. Quindi premo qui per partire all'avventura, per partire nella procedura. Premo e leggo quello che mi diranno, perché io magari l'ho fatto mille altre volte, ma era tempo fa. Metti che oggi sia qualcosa di diverso e quindi dobbiamo imparare qualcosa di diverso. Proteggi il tuo account con la verifica in due passaggi. Usa un ulteriore livello di sicurezza per impedire agli hacker di accedere al tuo account. Quando accedi, la verifica in due passaggi contribuisce a garantire che le tue informazioni personali rimangano private al sicuro e protette. Va bene. Allora, vediamo un po'. Sicurezza semplificata. La verifica in due passaggi è un secondo passaggio rapido che si aggiunge alla tua password per verificare la tua identità. Usa la verifica in due passaggi per tutti i tuoi account online. La verifica in due passaggi è un metodo comprovato per impedire gli attacchi informatici diffusi. Attivala ovunque venga proposta per proteggere tutti i tuoi account online. Quindi anche loro ti dicono quello che ti ho detto poco fa anch'io. Va bene. Iniziamo. Sono consapevole. Inizio. E vediamo che cosa succede. Allora, prima di tutto, quando io ho detto di iniziare, loro mi chiedono la password. Perché vogliono essere certi che sia io a fare questa verifica in due passaggi. Non è che mio figlio o un qualche d'uno o un collega dell'ufficio si trova davanti al mio computer. Qui mi fa lo scherzetto, mi mette la seconda verifica, la verifica in due passaggi e io mi trovo che poi non riesco più a entrare nel mio account. Quindi mi chiedono la password, che tu non hai detto a nessuno. Ok? Allora, la scrivo. Quindi l'avevo preparata perché sapevo che avrei dovuto mettere la password. Poi non c'è neanche da dirsi, magari è qualcuno che lo fa per farmi uno scherzo. Magari sei tu che pensi di sapere la password e invece non la sai e poi resti fuori dal tuo account. Quindi intanto te la chiedono. Ok, qui c'è il mostra password. Se vuoi vederla, in questo caso non lo faccio perché altrimenti la vedi anche tu e penso di averla scritta bene. Nel caso io l'abbia scritta male, mi dicono eh no, la password non è giusta e quindi riscrivo. Faccio avanti. Vediamo se è giusta. È giusta. E adesso scelgo il metodo di verifica. Come voglio confermare la mia identità? Allora, ricevo un codice di verifica al numero e qui c'è il mio numero di cellulare. Ci sono le ultime cifre del mio numero di cellulare. Certo, ricevo un codice di verifica lì. Quindi così, confermo la mia identità ricevendo un codice qui. Quindi adesso il mio cellulare riceverà un SMS. Eccolo qua. E io andando a leggerlo andrò a trascriverlo lì dentro. Allora, la G c'è anche qui. Lo scrivo. E dico avanti. Questo codice vale solo questa volta per qualche istante, per qualche secondo, un minuto, eccetera. Ok. E allora adesso mi hanno riconosciuto. Hanno visto che sono io, che ho in mano il dispositivo. E mi dicono, usa il tuo telefono come secondo passaggio per accedere. Questi dispositivi possono ricevere le richieste da Google. E questo è il mio telefono. E quindi sono già a posto. Sanno già che questo è il mio telefono, perché ho l'account anche qui, per cui sono a posto. Se c'è, non vedi il tuo dispositivo, questa è una domanda. Se qui non c'è il tuo telefono, ovviamente segui questa procedura. Ma diamo per scontato che tutto vada bene e andiamo avanti, perché altrimenti facciamo un giro troppo lungo. Continua. Benissimo. Qui c'è il mio numero di telefono. Mi dicono, hai quasi finito. Aggiungi un'opzione di backup. Se perdi il telefono, o se il tuo secondo passaggio non è disponibile, ti servirà un'opzione di backup per accedere al tuo account. Google utilizzerà questo numero soltanto per la sicurezza del tuo account. Non utilizzare un numero di Google Voice, che non è un numero di telefono vero. Potrebbero essere applicate le tariffe, ok, ma in realtà non spendi niente. In che modo desideri ricevere i codici via SMS? Cioè, in pratica cosa succede? Che se il mio telefono è quello che autorizza il secondo passaggio e lo perdo o lo rompo, caspita, come faccio io poi a entrare nel mio account? Il telefono non funziona più? Ok, vado alla mia compagnia telefonica, dico, ho perso il telefono, c'era dentro la SIM, eccetera. Me ne danno un'altra con il numero di telefono, con lo stesso numero di telefono di questo, che viene bloccato il numero in questo caso su questo telefono. Per cui io compro un telefono nuovo, ci infilo dentro la SIM, e anche se non uso il mio telefono, questo di adesso fisicamente, riceverò un SMS sul telefono nuovo, grazie al numero, che era uguale a questo, e potrò usufruire ancora dell'account in due passaggi, entrare nel mio account Google e in seguito dirgli, guarda che sì, ho perso quel telefono lì, questo è un altro. Ok, quindi diciamo che è un sistema giusto. Dico, invia, e adesso conferma la validità dell'SMS, quindi perché magari ho messo dentro un numero sbagliato, loro hanno preso quello di recupero, ma magari era sbagliato. Mi hanno mandato l'SMS, si è sentito, ma io ci parlavo sopra, quindi magari non l'avete visto, e trovo il numero, attenzione che adesso ne abbiamo due, di codici di verifica, mettiamo quello nuovo, non quello di prima. Allora, scrivo il codice e dico, avanti. Verificano il tutto e siamo a posto. Attivare la verifica in due passaggi. Secondo passaggio, richiesta da Google, valore predefinito, opzione di backup, messaggio di testo vocale. Rimarrai collegato all'account su questi dispositivi. E questo è il mio cellulare in questo caso, questo è il nome del mio cellulare. Potresti essere scollegato dagli altri dispositivi, per accedere di nuovo dovrai inserire la password ed eseguire il secondo passaggio. Cioè mi dicono, guarda che sul cellulare tu sarai ancora collegato, perché l'abbiamo riconosciuto, però magari da altre parti vieni scollegato, perché adesso c'è la verifica in due passaggi. E questa è una sicurezza per te, perché se qualcun altro sta accedendo a tua insaputa, qualcuno in passato lo ha fatto, non ti dice niente sta lì, lì, lì e guarda quello che fai, adesso viene buttato fuori, ok? Però tu devi sapere la tua password, perché altrimenti non riesci ad entrare in quel dispositivo se invece era tuo. Quindi è una sicurezza, ma devi fare attenzione. Intanto Google mi ha mandato un messaggio e-mail su questo telefonino e mi dice avviso di sicurezza. Questa è una copia di un avviso di sicurezza inviato a Maggioline, eccetera. È stato aggiunto un numero di telefono per la verifica in due passaggi. D'ora in poi i codici, eccetera, e via così. Quindi sono avvisato che è stato fatto qualcosa sul mio account. Nel caso c'è una voce con controllo attività, perché se non sono stato io posso in qualche modo intervenire in tempo per dire, oh, ragazzi, ma non sono stato io a fare questa cosa, quindi c'è qualcosa che non va. Comunque tutto a posto, tutto nella norma, devo dire semplicemente attiva. Attiva e adesso siamo a posto. Vediamo un po'. Verifica in due passaggi e attiva dal 30 marzo 2023. Da qui potrei spegnerla, ma non voglio. Allora, opzioni disponibili per il secondo passaggio. Nel senso, come faccio a dare l'ok? Ok, richiesta da Google, valore predefinito. Per ricevere richieste da Google, accedi al tuo account Google sul telefono. Dopo che avrai inserito la password sul nuovo dispositivo, Google ti invierà una richiesta a ogni telefono su cui hai eseguito l'accesso. Quindi in qualsiasi telefono che contiene il mio account Google, sarà, diciamo, automaticamente abilitato a dare l'ok. I tuoi dispositivi al momento sono questi. Messaggio di testo vocale, eccolo qua. Oppure, se non riesco con un telefono, eccetera, mi mandano un SMS qui. Niente, è facile. Adesso posso solo provare. Ho finito, posso solo provare. E cosa volevo dire? Ci sono anche altri modi per, diciamo, fare la seconda verifica. Dei codici, un'applicazione Authenticator, un token di sicurezza, eccetera. Ma ne parleremo in un altro momento. Non è che dobbiamo fare tutte le cose adesso. Noi adesso siamo già a posto così. Potremmo usare anche altri sistemi, quindi renditi conto di questo, ma così siamo già a posto. Quindi in questo momento il secondo passaggio è dato dal mio telefono fisicamente, o eventualmente da un SMS ricevuto da un qualsiasi telefono che contenga la mia SIM e quindi il mio numero. Mi accontento. Torno indietro perché ho finito. E adesso qui nel riepilogo di tutto c'è scritto che la verifica in due passaggi è attiva dalle 10 e 20. Non c'è la data perché in questo caso è oggi. A posto. Abbiamo finito. Devo solo verificarla. Quindi su un altro computer io, quando vado ad autenticarmi, mi troverò la richiesta della verifica in due passaggi. Sul mio computer no, perché lo conoscono già e siamo a posto. ma se uso un altro computer per la prima volta mi verrà chiesta questa verifica. Facciamo una prova. Se io su questo computer uso un browser diverso, quindi uno strumento di navigazione diversa, prendo Edge, Microsoft Edge, che non ho mai usato con il mio account Google, quando voglio loggarmi mi troverò a dover fare la verifica in due passaggi. Quindi vedremo che cosa succede. Facciamolo. Dico non ora qui alle sue richieste e dico accedi. Quindi adesso che chiedo di accedere al mio account Google mi sarà richiesta la verifica in due passaggi. Accedi. Tutto normale. Devo mettere il mio indirizzo email. Quindi il nome del mio account. Faccio avanti. Loro verificano se esiste. Ok, esiste. La password. Quindi questo è il primo passaggio di verifica. Che deve essere giusto, altrimenti da qui non si va avanti. Se è giusta, ci sarà ulteriormente la verifica in due passaggi. Avanti. È giusta. E adesso mi dicono come vuoi fare a entrare. usa il tuo telefono o tablet per richiedere un codice di sicurezza. Anche offline. Allora, qui io sono qua e faccio così. Uso il mio telefono o tablet. Vediamo. Ah, però probabilmente potrebbe essere complicato. Apri l'app se non ricevi niente, eccetera. Ok. Non ho voglia adesso di fare tutto perché il mio telefono qui non è regolato appositamente perché è il mio account da esperimento. Se fosse il mio telefono vero, diciamo, col mio account vero, non dovrei fare tutte queste cose. Quindi no, non ho voglia adesso di fare tutte queste impostazioni sul mio telefono perché è un discorso che mi porta troppo fuori. Dico, prova un altro metodo. Lascia stare. Proviamo nell'altro modo. Ricevi un codice di verifica al numero di telefono, l'SMS. Ricevo. Così faccio prima e non devo fare impostazioni nel telefono. Adesso attendiamo l'SMS. Eccolo qua. E quindi è facile. Vado a leggerlo. Come faccio a leggerlo così? E lo scrivo qui. È come prima. È un numero dello stesso genere. Anche se diverso. Tutte le volte è diverso. E tra poco, tra poco tempo, questo numero non sarà più valido perché così è più sicuro. Direi che ci siamo. Dico avanti. E basta. Adesso sono stato riconosciuto e il mio account è inserito qua. Posso usarlo. Posso andare nella mia posta elettronica. Posso guardare la mia nuvola. Posso guardare le mie foto. Posso fare un sacco di cose. Intanto qui ci sono gli avvisi di sicurezza perché mi sono arrivate le email che dicono tutto quello che ho fatto. Qui dicono grazie perché va bene così. Quindi siamo a posto. Abbiamo attivato la verifica in due passaggi. Quindi ogni nuovo dispositivo cellulare, computer o browser che vogliono accedere al mio account oltre alla password devono anche inserire il codice che riceve questo telefonino qui. Quindi devono avere fisicamente in mano il mio telefono per poter dare l'ok all'autenticazione. Bene. Mi auguro che questo video ti sia piaciuto. In questo caso metti un mi piace. Se ancora non lo hai fatto iscriviti al canale così sarai avvisato dei prossimi video in uscita ma tutti i giorni esce qualcosa e se ti va abbonati al canale YouTube Associazione Culturale Maggiolina c'è il pulsante abbonati qua in giro perché così puoi accedere ai video della serie speciale riservata agli abbonati. Ci sono già un sacco di video sul nostro canale riservati agli abbonati ma ogni settimana ne escono due nuovi per cui ti aspetto anche da quella parte lì dove vediamo delle cose magari particolari. Ci vediamo presto. Ciao! Ciao!